Non provo neanche a dirvi come sono felice, anzi come sono emozionata di presentare questo incontro con Luciano Ligabue, che conserva il mio cuore come tutti quelli che lo ascoltano cantare. Con lui conservo il nome dei grandissimi protagonisti che hanno agliettato il mondo con la loro musica rock, ma anche, forse soprattutto, con le loro parole più o meno ispirate dalla passione che conoscono solo i grandi artisti, straordinariamente capaci di non abbandonare più le loro immagini musicali. Ma lasciatemi dire che di questi grandi protagonisti a me lui sembra il più grande e quando con la bocca spalancata ci racconta le sue storie, quelle storie non le dimentichiamo più. Va bene, eccoci, dai. Senti, ma adesso, a parte questo che stai facendo con me, che spero che non ti ruberà tanto tempo, perché sono soprattutto parole che ti sto chiedendo e che ti abbiamo chiesto, ma che cosa hai in mente tu, in questa tua mente vulcanica, che cosa vorresti fare tu? No, adesso non c'è nessun progetto, nel senso che io, sai che cosa ho fatto sempre alla fine, è stato, so che non sembra plausibile, ma è stato navigare a vista, cioè nel senso che io non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere una raccolta di racconti, men che meno di scrivere una sceneggiatura e poi dirigere un film, men che meno di scrivere un romanzo, che per me comunque risuonava sempre come una struttura troppo complessa, insomma, per come io ho sempre scritto. Tutte queste cose non sono venute fuori da una progettazione, perché non è che uno si mette e gli dice io fra due anni farò uscire questa cosa perché non le puoi prevedere. Quindi in questo momento non solo non c'è nessun progetto, ma c'è la voglia sempre di più di andare contro a quello che mi viene incontro. Questo è il tuo problema. Quando io sento che ho l'urgenza di raccontare una cosa e questa cosa non sta nelle canzoni, perché purtroppo nelle canzoni a volte non ci stanno tutte le parole che hai bisogno di dire, allora dopo pian pianino quella roba prende la forma più giusta, più adeguata proprio da raccontare. Un racconto di una storia. Esatto. E quindi però questa roba non si sa quando viene fuori, cioè io non l'ho mai saputa quando viene fuori. Ma tu con Procacci che rapporti hai adesso? Non so, rapporti ottimi, è venuto a trovarmi… Perché rapporti ti adoravano. No, no, ma credo che possiamo dire di essere ancora molto amici. È venuto il primo maggio a trovarmi a Roma, ogni tanto scherziamo sul fammiserato prossimo terzo film che pure verrà se verrà fuori una storia. Io non ho voglia di andarla a cercare la storia, capito? Però viene. Se viene, allora ci sarà un terzo film. E questa è coerente con le cose che scrivi, perché anche le canzoni le fai così. non è che lo sai prima, a un certo punto ti viene. Io scrivo molto. Rispetto alle canzoni, ecco, lì scrivo molto, nel senso che scrivo tante canzoni. E tante non le pubblico. Cosa fai di quelle che non pubbliche? Non si sa. Sono lì. Non si sa. Con me non esiste non si sa. Si sa, nel senso che comunque al momento sono lì, sono canzoni che non sono state pubblicate perché altre erano più giuste per costruire un album, per costruire qualcosa da dire. Magari perché in quel momento erano più giuste. Sì, cioè quelle che pubblico, ovviamente, perché erano più giuste nel raccontare una cosa. Cioè io, soprattutto nei primi cinque, sei album, avevo una sorta di idea concept. Gli chiamano i concept album. Cioè un'idea di base per raccontare delle cose attraverso gli album. Cioè quindi le raccolte delle canzoni. E mentre il primo era una sorta di presentazione, cioè raccontavo il mio mondo più o meno, il mio punto di vista, il secondo era il viaggio fra la realtà e il sogno. Il terzo parlava di resistenza umana. Infatti si chiamava sopravvissuti e sopravviventi con tutto il discorso annesso e connesso. Il quarto era una raccolta di canzoni, ecco, vedi ad esempio che non erano finite in altri album precedenti e che aveva bisogno di venire a galla. Il quinto era un album che raccontava il rock. Cioè l'epica del rock, l'idea, l'iconografia del rock. Era un album in cui si raccontava soprattutto di una cosa che secondo me è molto chiara ed è sotto gli occhi di tutti, ma che comunque ci continua in qualche modo a fregare. Cioè la persona che in quel momento aveva più successo al mondo era Elvis Presley e questa persona che aveva tutto e aveva tutto a disposizione di quel tutto è morto. Perché in qualche modo si è fatto dentro di lui largo probabilmente un buco che non riusciva a riempire con nessuna sostanza, con nessun alimento. Lui è morto per un eccesso di assunzione di sostanze, alimenti, eccetera. Poi è morto anche in un modo assurdo per il re del rock. Lui è morto sulla tazza del cesso. Gli è venuto un infarto mentre stava sul water. Quindi pensa all'ironia della sorte anche. Però questo dovrebbe far riflettere un po' tante persone rispetto alla logica del successo. Tutti nasciamo e cresciamo pensando che l'idea di felicità in qualche modo sia raggiungibile attraverso il tuo raggiungimento di un successo personale. Perché questo è il messaggio che ci arriva da tutte le parti. Però questa è una puttanata. Nel senso che non è niente vero. Cioè la tua felicità... Tu risolvi dei problemi con il successo. Io ho provato a raccontarlo più di una volta. Sicuramente il successo specialmente se fai musica popolare è necessario, è importante per farti sentire bene e per sapere che tu stai facendo anche la cosa giusta. Però non è vero che ti rende felice. Cioè ti risolve molti problemi ti fa vivere... Soprattutto perché tu non fai solo musica popolare. La tua musica popolare rappresenta qualcosa di molto preciso nel momento che la fai. Non fai la commedia con me. Tu sai benissimo che cosa rappresenta. Ma sappi che io ci credo molto... Ritorniamo sul nostro parcoscenico. Ma guarda Nanda sappi che io credo moltissimo in questa roba qua. Io credo molto nel fatto che le canzoni sono nate come riduzione del melodramma. Il melodramma era per la gente. Senza dubbio. Sono assolutamente d'accordo. Viva, viva, viva. Le canzoni sono per la gente e io voglio rispettare quella cosa lì. Nel senso che comunque non mi piace neanche tanto l'idea che una canzone debba essere scritta soltanto per una cerchia di eletti. Perché lì si fa qualcosa di non giusto rispetto alla natura della canzone stessa. Della canzone. Di non giusto nella canzone però molto coerente con quello che tu hai dentro quando scrivi la canzone. Ognuno ovviamente poi ha bisogni diversi ha bisogni espressivi diversi anche. Ovviamente. No Nanda non lo so io sai quando si parla di simboli credo che sia difficile un po' per tutti capirne la portata e capire anche come mai vengono a galla come mai qualcuno eventualmente può arrivare a simboleggiare qualcos'altro. Però io mi sono sempre di più fatto chiaro nella testa un discorso che sento molto mio e che mi piace pensare che sia così ed è che noi in generale come genere umano siamo capaci di estremi molto importanti cioè di una grande meraviglia e nel contrario secco perché abbiamo la capacità la capacità di essere ognuno di noi unico unico nel proprio punto di vista il nostro punto di vista è dinamico è in movimento cambia perché comunque giorno per giorno attraverso anche le cose di cui ci alimentiamo ma anche fisicamente ma oltre che le informazioni oltre che la poesia oltre che l'arte oltre che tutto quello che ci arriva dentro in qualche modo sposta sempre un po' il nostro punto di vista e quindi il nostro punto di vista dobbiamo accettare che sia mobile che sia in cambiamento che ci permetta di guardare il mondo con occhi diversi giorno per giorno è indispensabile ecco questa cosa qua a me fa pensare ad un'altra cosa ed è che ognuno di noi ha già dentro tutto ognuno di noi dentro di sé ha dentro tutto e quando si fa arte oppure si fanno canzoni o roba di questo tipo succede semplicemente che uno regge lo specchio a qualcun altro io quando funziono bene reggo lo specchio a qualcun altro che passando di lì può guardarsi un attimo e può dire vado avanti perché non è il momento di specchiarmi oppure può fermarsi e dire ecco adesso lascio venire a galla quello che ho già dentro e in questo momento che cosa lasci venire a galla io ovviamente non posso far altro che raccontare quello che che a me viene da raccontare poi ognuno dovrà lasciare venire a galla quello che crede perché le canzoni sono sono di fortunatamente di interpretazione soggettiva cioè io tante volte ho sentito delle interpretazioni delle mie canzoni che io non avrei mai dato cioè io non a volte ho sentito le mie canzoni venire vissute in una maniera che era molto lontana dal motivo per cui le avevo scritte però andava bene anche così perché lo specchio aveva funzionato aveva permesso a qualcuno di far venire a galla delle cose e di capire delle cose che non aveva capito sì sì perché se fa venire a galla questo è il tuo desiderio ma il mio guarda poi io penso che ovviamente una delle basi della mia scrittura sia quella di infondere speranza quella di in qualche modo riuscire a a trasmettere un sentimento di resistenza di capacità di affrontare la parte più dura anche e tutto questo io continuo a metterlo lì anche se non è sempre facile perché poi tante volte il mondo per come lo vedi ti sembra un posto tremendo però l'importante secondo me è riuscire ad avere le risorse con cui anche affrontarlo con cui anche guardarlo e da questo punto di vista c'è una cosa in una canzone che si chiama da adesso in poi c'è una frase che è l'unica che io mi sono ripromesso di usare come vero insegnamento a mio figlio questa frase vale la pena vivere e secondo me questa è un po' la frase che ritorna in molte delle mie canzoni una volta politica voleva dire ideologia voleva dire passione sogni poi il corso della storia è cambiato da allora come è cambiato il tuo modo di approcciarti alla vita e alla tua musica ci sono molte fasi nella vita da elaborare ovviamente compresa anche quella di prendere atto che alcune grandi idee alcune grandi passioni non combaciano alcuni grandi sogni che hai avuto possono anche non realizzarsi è ovvio che questo rientra nell'esistenza di ogni persona e bisogna fare conti con quello che c'è dopo quando vedi che questa cosa non si può anche con i conti di quello che c'è fuori delle persone che ti ascoltano che è ancora più difficile perché parlare di quello che hai dentro non sai fare solo tu nessun altro non c'è dei nostri critici ma parlare di quello che c'è fuori è più complicato decidere quali delle cose che ci sono fuori ah no ma è molto difficile ovviamente raccontare le cose che ci sono fuori anche perché come sempre tutto questo passerà sempre attraverso un filtro tuo cioè se io racconto quello che vedo fuori lo racconterò attraverso i miei occhi per forza di cose e saranno sempre degli occhi che hanno fatto un sogno che non si può più fare sì quello sicuramente quel sogno lì ti resterà sempre sulla pelle sai non per arci che ti finisci no io ovviamente credo che il sogno di pensare che la politica potesse in qualche modo rendere questo mondo questo mondo più equo cioè che si preoccupasse di distribuire le risorse in un'altra maniera perché così si presentava non era colpa tua adesso è una chance di vita decente ad ogni persona certo beh è ovvio che il cuore è stato un sogno molto grosso è difficile adesso credere che la politica si concentri su queste cose adesso la politica si concentra su su il conto in banca esatto su un discorso economico però è chiaro che ci sono molte forme di di speranza e di passione e di ideologia no e io spero di poter dire che questa cosa qua anche se non è assolutamente realizzabile in brevi termini ma che forse un giorno in qualche modo possa essere non raggiunta totalmente ma almeno in parte io invece ti faccio una predizione senza aspettare che passi tanto tempo che oggi quando